vi propongo un gioco con le carte in questo gioco ci aiuteranno le donne ma avrei bisogno anche dell'aiuto di qualcuno del pubblico mi può aiutare lei? chiederei di prendere una carta, una qualsiasi una più avanti, no, questa qui di guardarla bene, di ricordarla perfetto, adesso andiamo a riperterlo in mezzo al mazzo dicevo, in questo gioco ci aiuteranno le donne le donne sono qua, già che lavorano infatti stanno spogliando le carte vediamo se hanno fatto c'è una carta che si è girata nel mazzo che è il 5 di picche come dice, non è la sua carta questo è molto strano, ah ma forse ho capito bisogna contare 5 1, 2, 3, 4 e 5 e questa che carta era? 7 di picche il 7 di picche e dicevo che questo gioco mi avrebbe aiutato le donne e infatti è uscito proprio grazie alle 4 donne del mazzo grazie 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 grazie